E' stato calcolato in 40 milioni di euro il costo anno nazionale degli infortuni sul lavoro. Il costo drammatico e inconcepibile è quello in vite umane. Pesante il bilancio anche in Lombardia, come ci racconta Laura Longo. La Lombardia è una delle regioni dove si muore di più lavorando. La prima è il Veneto. 21 morti in tre mesi, secondo i dati dell'osservatorio indipendente di Bologna, che da dieci anni monitora gli infortuni mortali, aggiungendo le cifre ufficiali dell'INAE e le vittime raccontate dalla cronaca, ma inesistenti sui libri paga delle aziende. In Lombardia il bilancio di questo primo trimestre è nettamente superiore a quello dello stesso periodo dello scorso anno, quando l'INAE in totale aveva censito 13 incidenti mortali denunciati nella nostra regione, su un totale di oltre 7830 infortuni. Il 2018 si è aperto con la morte dei quattro operai della Lamina, uccisi a gennaio in un forno saturo di gas, dove l'allarme non ha funzionato. Succede a Milano, nel quartiere milanese di Greco. Nella capitale del lavoro e degli affari ne muoiono altri quattro. In quattro perdono la vita a Mantova, due le vittime a Bergamo, due a Sondrio, due a Brescia, uno a Como, uno in Brianza e uno a Pavia. Si muore anche a 19 anni, ferito a morte da un torno sotto gli occhi del padre nell'azienda di famiglia, o precipitando a 58 anni per mettere in sicurezza una massicciata a bordo strada, travolti dalla gru che si stava smontando e schiacciati da un ponte elevatore. Le ultime due vittime a Treviglio gli avvisano che da un impianto esce fumo, vanno in azienda a controllare un'esplosione lucide il giorno di Pasqua. Una strage senza fine anche nella nostra regione. Di nuovo buongiorno al nostro ospite Luigi Felicianiche, vicepresidente di Anmil Lombardia. Sembrano migliorare le tecnologie, i sistemi sempre più sofisticati di sicurezza, però crescono gli incidenti anche mortali sul lavoro. Perché? Una domanda che ci poniamo spesso di questi tempi, in questa piccola ripresa che si è vista dal 2015 a oggi, non è ammissibile che di fronte a una ripresa del lavoro si pagano veramente con vite umane. Siamo nei termini che passati, dobbiamo dirlo, dal 2008 fino a scendere al 2015, c'è stata veramente una discesa, una diminuzione degli infortuni mortali e anche degli stessi infortuni. Sono ripresi da quanto? Dal 2015 che cominciano a risalire? Dal 2015, piccola ripresa, vediamo subito questo innalzamento di questi infortuni. Non è ammissibile, come diceva infatti anche lei, che non è. La formazione, siamo convinti, è determinante perché partendo dalle scuole a formare i futuri lavoratori, i futuri lavoratori, i futuri imprenditori al domani è determinante. Oggi di formazione possiamo anche parlarne, vediamo il caso di Caravaggio, due lavoratori esperti, di Livorno, due lavoratori esperti. Anche alla Lamina di Milano erano esperti, tutti quanti. Non è una carenza di formazione. Non è una carenza di formazione, pensiamo piuttosto che dovremmo, secondo noi, anche seguire veramente le ispezioni, le pratiche operative che mettono in atto le aziende. Dobbiamo dire che in questo le grandi aziende, soprattutto, hanno cominciato a crederci da diversi anni, perché misurate anche veramente sia in termini qualitativi quando offrono il loro prodotto. Mentre questo, purtroppo, dobbiamo dirlo nelle piccolissime aziende, e Lombardia ne ha tantissime di queste, questo passaggio culturale non è ancora arrivato. Quindi incrementare i controlli, fare verifiche sui sistemi di sicurezza, questo può aiutare? Noi ne siamo convinti, perché ormai le macchine nascono normate, più nessuno ti può piazzare una macchina o un impianto non normato. Però siamo oltrettanto convinti che le pratiche operative, da spiegare agli operatori come si lavora, come si fa, e le pratiche ispettive che vengono messe un po' in atto nel momento dell'installazione della macchina, siano rispettati tutti i canoni, questo va verificato. Siamo in carenza di ispettori, siamo in carenza anche, soprattutto, di un invito che facciamo noi, di andare a vedere come lavorano le pratiche operative, se gli stessi operatori stanno eseguendo con i materiali, con i mezzi e anche i modi di poter operare, veramente per mettere in sicurezza sia l'impianto, la loro vita e la vita degli altri. Lei ha già accennato a delle piccole imprese che magari risultano carenti sotto alcuni profili di sicurezza, ma ci sono dei settori in particolare in Lombardia in cui ci sono più problemi e più rischi rispetto ad altri? Allora, determinante sempre la Lombardia e il settore delle costruzioni paga sempre a caro prezzo. Vuoi che l'edilizio è un cantiere in continua trasformazione, non è un'azienda, continua a trasformarsi giorno dopo giorno e purtroppo paga ancora a caro prezzo questo. È anche vero che poi quei settori, tra l'altro, che hanno cominciato a incrementare la lavorazione, in Lombardia vedi che vanno dal settore veramente, sia dalla metallurgia, metallomeccanica e costruzioni d'auto, che sono quelli che stanno trainando veramente questa ripresa, però sono quelli che pagano a caro prezzo questa ripresa. Quindi qualcosa che stride non è ammissibile. C'è qualcosa che non torna e dico non è solo formazione, ma dobbiamo secondo me crescere veramente la cultura, la sicurezza anche degli stessi operatori. Perché il decreto 81, che ormai vanno per i dieci anni, è stato un passo da gigante perché ha tenuto tutti i responsabili, dal datore di lavoro all'operatore. Tutti si devono sentire responsabili della sicurezza, della propria sicurezza e della sicurezza di chi gli sta vicino. Non, come si diceva ai tempi, era solo la colpa del datore di lavoro. Gli stessi operari devono stare attenti. Ognuno di ogni lavoratore deve badare a sé ed essere formato per stare attento. Esatto, noi ne siamo convinti che quando entriamo nelle aziende e anche nelle scuole sottolineiamo l'infortunio non lo vuole né il datore di lavoro né il lavoratore. A questo esempio invece tutti si devono prendere responsabili della propria sicurezza. Posso citare che entrando in un'azienda qualche anno fa, passando davanti al budget per timbrare, c'era guarda il tuo responsabile della sicurezza. Mi ha fatto molto piacere, c'era uno specchio, perché ognuno si deve sentire responsabile della propria sicurezza. Perché è stato fatto la 626, decreto 81, ma lo poni anche di carta. Però se dentro di noi non cominciamo a costruire quella cultura, la sicurezza che ci porta a lavorare veramente in modo sicuro, non ne usciamo da questo triste fenomeno. Abbiamo parlato del settore dell'edilizia. Come avvengono gli incidenti? La maggior parte degli incidenti sono dovuti alla logistica, alla movimentazione. Qual è il settore più a rischio? Oggi, bene citato, dopo l'edilizia purtroppo è la logistica. Oggi movimentando, movimentando, purtroppo parecchi sono magazzini. Li vediamo anche noi, il settore di logistica che va dal trasporto, schiacciamenti, ribaltamenti. Abbiamo sentito anche stamattina di questo ragazzo che stava dando questo semovente. E' ribaltato il saper utilizzare. Quindi la logistica. La stessa logistica che poi viene a determinare anche una malattia professionale. La muscola scheletrica, perché movimentando, facendo, vengono sottoposti a sforzi che qualche anno fa non venivano neanche presi in considerazione. Perché c'è un aumento anche delle malattie professionali. C'è un aumento delle malattie professionali, fenomeno che fino a qualche anno fa veniva solo individuato. Il famoso asbestosi o silicosi dai lavoratori, dalle miniere o chi è stato sottosposto all'ambiente in Lombardia, Broni, per tutto. Tra l'altro malattia che resta in incubazione anche un 20-30 anni. Infatti, secondo le TS, lo sviluppo maggiore è iniziato nel 2014 e andrà a terminare nel 2020. Inalazioni fatte. Oggi le malattie professionali cominciano a trasformarsi. Sono soprattutto muscoli scheletriche. Questo riconoscimento va dato anche atto grazie soprattutto alla medicina del lavoro che è scesa in campo. E che sta facendo passi avanti notevoli. Passi avanti notevoli grazie anche al supporto dei medici di base che conoscono la famiglia, conoscono l'azienda, collegando il tipo di malattia professionale che ha avuto, sottolineando. Grazie, grazie per il suo intervento.